Putin è responsabile della morte di Alexei Navalny ed è stato commovente vedere le persone arrivate ai suoi funerali. Putin sta distruggendo il suo paese per salvare se stesso. Lo ha detto la presidente della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, ribadendo che l'Europa rimarrà al fianco dell'Ucraina finché è necessario e poco prima lo street artist napoletano Giorita, secolo Ciro Cerullo, si era fatto fotografare e ha abbracciato a Putin per mostrare all'Italia che lei è un essere umano come tutti. Parole sue. È la seconda volta in poche settimane che il presidente russo approfitta del gancio fornito dall'incontro con un italiano per sottolineare i legami con il nostro paese. Grazie all'aumento dei prezzi del petrolio, all'illusione delle sanzioni, agli investimenti statali, la Russia potrebbe disporre di risorse sufficienti per continuare a combattere in Ucraina per almeno altri due anni con l'intensità attuale. Dopo il bombardamento a Odessa che è costato 5 morti e l'apprensione per il premier Zelensky sfiorato da un proiettile, i sistemi di difesa aerea russi hanno neutralizzato sei droni ucraini che tentavano di attaccare obiettivi in tre regioni della Russia centrale.